Siamo in via Spalti. Questo è il luogo dove venerdì attorno alle 4 del mattino ha trovato la morte Mia Enake, un giovane romino di 29 anni, morto soffocato mentre cercava dei vestiti, probabilmente per la sua bimba, in questo cassonetto. Anche se il cassonetto è già stato cambiato con uno più moderno, sembra anche che le leve di sicurezza fossero state, tra virgolette, in qualche modo manomesse. Ecco, questa è una serata come quella di venerdì, solo un po' prima. I familiari sul marciapiede hanno, sotto quest'albero hanno messo dei lumini per ricordare il giovane papà che lavorava alla finca antieri. Ecco, qualcuno è venuto anche ad accenderli questa sera e poi ci sono dei fiori.